Certo, magari c'è qualcuno che mi sente dire una tutta del sette mi ha. Ah, eccolo qua. Certo. Eh, questo. Certo. Ve l'ho detto solo per vedere questo mi faccio la guerra. Dai, io ho una foto sotto. Hai chiedi di questa non voglio fare. Aspetti, aspetti. Ah, me lo trovo. Ok. La faccio io la foto, dai.